Saranno in undici al via, otto in prima fila e tre in seconda fila. Dallo steccato Demetra MC con il numero uno, due Dallas Spav, tre Dixon Spav, quattro Dominic Brunot, cinque Danubio FG, sei di Kiki Alor, sette Dollarus, otto Don Camillo. In seconda fila si avvieranno Daphne Ors con il nove, con il dieci due drop e con l'undici Dorian Jett. Gioco ancora aperto Dominic Brunot, sembra il punto di riferimento per gli scommettitori, macchina che accelera per lasciare i concorrenti arretrato Don Camillo. Stacco della macchina, dallo steccato Demetra MC cerca di contenere gli avversari all'esterno Dixon Spav che va per ripiegare con allargo Danubio FG. Se ne vanno i duecento di gara di Demetra in 14.1. Demetra ed Enrico Somma a dettare i ritmi della contesa nei confronti di Dixon Spav che si è sistemato in terza posizione scavalcato da Danubio FG. è rimasto all'esterno e punta in avanti Dominic Brunot. C'è l'errore alle spalle del battistrada di Danubio FG così che Dominic Brunot può parcheggiare in seconda posizione. Se ne vanno i seicento iniziali in 43.7. Non lesina l'andatura il leader Demetra MC che si mantiene sempre in vantaggio anche sulla seconda curva nei confronti di Dixon Spav all'interno e all'esterno Dominic Brunot. Poi di Kiki Allor, Daphne Ors, Dallas Spav e gli altri. 59.3 il mezzo miglio. Demetra viaggia sempre con una di margine su Dominic Brunot che ora in maniera più decisa gancia l'avversario. In terza ruota si scopre Daphne Ors, il chilometro in 14.5 da parte di Demetra MC che preda nell'attacco di Dominic Brunot. Daphne Ors protesi in terza ruota. Poi Dixon Spav, 1.30 i tre quarti di miglio. Dominic appariglia completamente Demetra. Daphne Ors sempre in terza ruota guadagna lungo lo steccato Dallas Spav che si ritrova alle spalle di Demetra MC ma ora deve reperire il varco. Retta d'arrivo con Demetra in vantaggio. Dallas trova aria all'interno, allargo Daphne Ors e Dominic Brunot, Dallas Spav all'interno, allargo Daphne, Dallas Spav. Alla fine prevale su Daphne Ors e Dominic Brunot, Dallas Spav il team di Francia ancora sugli scudi. Stavolta la guida del proprietario Vito Antonio Nanna per la scuderia New Spav con il numero 2 sul tabellone al primo posto, al secondo il 9 di Daphne Ors e al terzo il 4 di Dominic Brunot. E' venuta molto bene a Dallas Spav che ha chiuso in due minuti e poco più. Su Daphne Ors e Dominic Brunot che ha costruito all'esterno si è arenata Demetra MC che aveva provato la corsa al comando. La gioia quindi di Vito Antonio Nanna, di Michele Di Francia e anche di Vito Cafagna. Questo è tutto per la prima di Foggia nel segno di Dallas Spav.